Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una tematica che probabilmente da una parte vi lascerà bocca aperta e dall'altra non so, me lo scriverete voi nei commenti. Forse qualcuno conoscerà già questa tecnica, altri no e oggi sono qui per parlarvene. Vi ricordo che vi lascerò anche dei link giù nella info in modo da guardare il video di cui vi parlerò oggi. Oggi parleremo di Sandra Bullock e di una tecnica che lei utilizza per mantenere giovane la pelle del suo viso. È capitato anche a voi, almeno una volta nella vita, di guardare un'attrice e pensare, cavolo, ma come mai il tempo sembra passare per tutti e non per lei, non per loro in generale? Qui si parla di personaggi famosi che fanno parte del mondo dello spettacolo in generale, del cinema, dell'industria musicale. Insomma, si tratta di persone che vengono definite famose. Piccola parentesi famose perché sono state rese famose dal pubblico e il pubblico che le segue è il pubblico che gli ha fatti diventare quelli che sono. Ecco, quindi se oggi loro sono famosi devono soltanto dire grazie ai loro seguaci perché altrimenti anche loro, come nel caso del sistema politico, non potrebbero fare proprio un bel niente. Quindi questa grande influenza che hanno sulla massa fondamentalmente gliel'hanno data le persone. Ci sono addirittura persone che, questa la trovo una cosa molto triste, adottano questi personaggi proprio come dei modelli, si comportano come loro, si vestono come loro, devono essere come loro. Se c'è un piccolo consiglio che vi posso dare, non cercate mai di vendere la vostra unicità per rimpiazzarla con una struttura, quindi con la personalità di un'altra persona, l'aspetto di un'altra persona, perché non siete inferiori a nessuno e quindi cercate sempre di preservare la vostra originalità. Questo è un piccolo consiglio proprio dal cuore che mi viene da darvi, perché so benissimo che anche se ci troviamo nel 2024, ci sono purtroppo ancora persone che criticano gli altri per l'aspetto fisico e poi queste persone che ricevono la critica, due sono le cose, o se ne fregano oppure stanno lì notti a piangere perché magari detestano una parte del loro corpo. Il corpo si può sempre migliorare, però cercate sempre di migliorare voi stessi e di seguire quella che è la vostra persona, la vostra personalità, il vostro io infinito. Non siate delle copie di copie di, ok? Perché non ne avete bisogno, siete bellissimi così come siete. Ora, quindi sicuramente è capitato anche a voi di pensare, mamma mia quanto è giovane questa attrice, come mai ha un viso così, ecco, no? Un viso così ben curato. Sandra Bullock ci ha allevato qualsiasi dubbio, perché in un'intervista ha raccontato di quella che è la tecnica che lei adotta, ma, diciamo, dopo questa dichiarazione di Sandra Bullock si sono unite a lei anche altre colleghe, come una Kate Blanchett, che ha detto, beh sì, lo faccio anch'io. Si tratta di una crema, chiamiamola così. Io non posso utilizzare i vocaboli che vengono utilizzati in questo articolo, perché potrei scendere nel volgare. Quindi, vi dico semplicemente che nel corso dell'intervista, l'intervista mi fa ridere per non piangere, perché ad un certo punto lei, come attrice, ancora ancora l'apprezzo anche, nel senso che nei film in cui l'ho vista recitare mi è piaciuta. Però poi, vedete, questo sistema, nel momento in cui lo vai a scoprire, tassello dopo tassello, non riesci poi, alla fine, nemmeno a guardare più gli attori come una volta, per non parlare del fatto che adesso nella lista di un certo personaggio rientrano tantissimi attori. Adesso ci si sta concentrando soprattutto su Bill Clinton, ma la lista è lunghissima e comprende anche tanti attori. Io ho sentito anche il nome di Will Smith. E vi giuro, quando io ho cominciato a vedere questo sistema con occhi diversi, quindi non sono più riuscita a stimare, tra virgolette, questi attori, ma nemmeno la stima, perché non è che li stimo. Però, anche adesso, quando guardo un film con alcuni attori, io lo guardo, ok, giusto per guardare, ma non è che dici che sono tipo affezionata ad un attore, no. Diciamo che il mio attore preferito è Keanu Reeves, ma in generale, diciamo che non guardo il film perché c'è l'attore X, ecco, questo voglio dirvi. Quindi, ritornando al discorso, quando ho visto, ho guardato quest'intervista, ecco, mi ha fatto un po' ridere per non piangere in alcuni punti, perché ad un certo punto a chi l'ha intervista, Sandra Bullock risponde. E se si hanno, comunque, dei problemi dal punto di vista della pelle e del viso, che cosa fai? Ti butti su un pollicino coreano. Ora, visto che il sistema, secondo le leggende metropolitane, ama i pollicini, e voi sapete il perché, io, quando ho sentito queste dichiarazioni, le ho trovate di poco gusto, perché, voglio dire, le persone non sono stupide, le persone ormai, i segretucci del sistema, e tutte le tortue ritualistiche che vengono utilizzate su dei soggetti particolari per trarre, no, godimento e sostentamento, li conosciamo, ok? Sappiamo di cosa si nutrono quella che è l'energia vitale e dove è contenuta l'energia vitale. Queste cose noi le sappiamo. Quindi ho trovato alcune sue uscite di poco gusto e adesso qualcuno di voi si starà chiedendo ma che cavolo significa, no, ci si butta sul pollicino coreano? Questa tecnica che permette loro di mantenere il viso giovane praticamente è una sostanza che è contenuta nei prepuzzi, sicuramente qualsiasi persona sa cosa è un prepuzio, dei pollicini coreani. Avete capito bene? Cioè loro si spalmano questa, tra virgolette, crema sulla faccia. Infatti qui la tecnica viene chiamata in un modo un po' volgarotto che io preferisco non utilizzare. Qui si fa anche il nome, come vi ho detto, di Kate Blanchett, Sandra Bullock, Kate Beckinsale, le star di Hollywood nell'articolo si ironizza un po' perché la tecnica si chiama penis far ok? Quindi nell'articolo ironizzano e dicono scusatemi se a volte tiro su con il naso ma sono raffreddata. Si ironizza nell'articolo e si dice no tranquilli, non è che le star di Hollywood si sono buttate sul po' no? ma hanno praticamente adottato una tecnica che consiste nell'andare a a mettere sulla pelle questa crema antietà che appunto viene diciamo questo fattore epidermico è contenuto nelle cellule staminali che si trovano in questi prepuzzi dei pollicini coreani. Nell'articolo ci viene scritto perché alcuni articoli li avete condivisi voi con me l'ultima in ordine di entusiasmo è proprio la bella Beckinsale che su Instagram dopo un lungo viaggio in aereo ha esaltato la potenzialità di questo prodotto e ha detto dopo un lungo volo mi piace sdraiarmi e coprirmi il viso con una maschera liquefatta di prepuzzi clonati. Sì ragazzi loro ne parlano con tanta soddisfazione sui social sui loro social quindi capite dopo un lungo volo mi piace sdraiarmi e coprirmi il viso con una maschera liquefatta di prepuzzi clonati. Ha scritto in tono scherzoso ma sincero sul suo profilo Instagram la 45enne nemmeno 24 ore dopo si sono fatte avanti altre due colleghe Kate Blanchett infatti non molti mesi fa aveva dichiarato a Vogue Australia di usare lo stesso prodotto da tempo un magico trattamento di bellezza aveva dato proprio questa descrizione l'aveva proprio descritto come un magico prodotto di bellezza e aveva anche detto in quell'occasione che l'idea era arrivata proprio dalla sua amica Sandra Bullock quindi era come se Sandra Bullock avesse consigliato Kate Blanchett di buttarsi su questa tecnica e Sandra Bullock ha detto che questa tecnica questa crema chiamatela come volete fa miracoli sul volto sul loro viso ecco ha fatto miracoli perché ha un'azione diciamo che riesce a ringiovanire la pelle all'origine di questo portentoso prodotto di bellezza c'è la scoperta vabbè qui dice di George Louise un'estetista britannica che possiede un atelier a New York dove vanno puntualmente a trovarle anche Emma Stone e Jennifer Aniston secondo quanto riportato dal Daily Mail la Louise utilizzerebbe un siero che possiede diciamo questi benefici all'interno di questo siero ci sono appunto questi fattori di crescita epidermici che in questo caso provengono da cellule staminali del prepuzio di pollicini neonati coreani che sono stati appunto ovviamente circoncisi per questo le signore di Hollywood hanno coniato il buffo termine penny facile i risultati come dire si vedono ad occhio nudo perché il prodotto spinge innanzitutto le cellule a rigenerarsi a cancellare le rughe e quei fili sottili che le tacre attorno a bocca e occhi e a rendere la pelle del viso più chiara luminosa ed energica crea vitalità un trattamento costa attorno ai 650 dollari e la stessa Louise sul suo profilo instagram ha da tempo specificato che si tratta solo di cellule clonate voi ci credete? confermando ovviamente la fonte d'origine cioè il prepuzio e cioè che questo trattamento proviene proprio dal prepuzio ora nell'articolo perché io vi lascerò poi anche l'articolo in cui è Sandra Bullock a parlare perché viene diciamo intervistata e tra l'altro le ironizzano su questo infatti il titolo è proprio questo iniezione di prepuzio di pollicino in faccia per rimanere giovane sì ragazzi non siamo in un film di fantascienza ma siamo nella realtà quindi qui si addirittura ragazzi si parla nel video di segmenti che sono stati completamente eliminati perché vi ho detto Sandra Bullock mentre parlava di questa tecnica diciamo ha avuto delle uscite un po' fuori luogo il video lo trovate tutto nel link perché lei ha anche detto a chi la intervistava nel momento in cui ti vai a mettere questa sostanza nel viso sembri vittima di ustioni per un giorno quindi effettivamente hanno un processo questa questa tecnica questa sostanza subisce un processo lei ha detto all'inizio sembri ustionata sembri vittima di ustione ma poi insomma tutto quanto si sistema infatti chi la intervistava le ha chiesto ma cosa stai spingendo nella tua pelle e lei beh si spinge dentro qualsiasi cosa un esperto voglia inserire nei tuoi pori e le è stato chiesto ma di che cosa si tratta e lei si tratta di un'estrazione da un pezzo di pelle proveniente da un giovane molto molto ecco perché vi dico che io ad un certo punto riso per non piangere perché questa sua ironia ma che cos'è e lei risponde si tratta di un'estrazione che da un pezzo di pelle proveniente da un giovane molto molto lontano e in qualche modo hanno capito come estrarlo ovviamente queste dichiarazioni le ha fatte molto attenti a scegliere le parole giuste e poi ha esordito chi la intervistava è il prepuzio di un pollicino coreano cioè roba da veramente è interessante notare che il segmento in questione è stato eliminato da un caricamento di intervista completa pubblicato appunto da questo show The Ellen Show su YouTube Bullock ha continuato a promuovere l'orribile procedura cosmetica dicendo penso che quando vedrai quanto è bello il tuo viso anche tu correrai dall'esperto e dirai dammi il bene sì ha detto proprio così quando vedrai anche tu cioè le parole sono proprio queste quando vedrai anche tu quanto è bello il tuo viso anche tu correrai dall'esperto di turno a chiedere dammi il ne io sono sempre dell'idea che tu un concetto lo puoi diciamo così presentare in mille modi diversi con tanti sinonimi appropriati invece no uno scrittore del Guardian ha tentato di fare questa procedura e ha scritto la procedura popolare nei circoli delle celebrità di Hollywood inietta cellule di prepuzio di pollicino in particolare il prepuzio di un bambino sudcoreano nel viso Sandra Bullock e Kate Blanchett sono grandi fan di questa tecnica proprio il mese scorso come vi dicevo io Kate back in sale ne aveva uno e ne ha fatto uno appunto e ha poi dichiarato che era fantastico chiedendo perché vengono selezionati proprio pollicini coreani un esperto del viso ha dichiarato la Corea del sud tende ad essere all'avanguardia nei trattamenti di bellezza e questo trattamento è stato ispirato dal lavoro svolto lì quindi a quanto pare questa è una trovata che è stata proprio sperimentata lì in Corea del sud ok e un altro sito ha fornito ulteriori dettagli su questo trattamento e hanno scritto quando si osserva la pratica moderna si potrebbe presumere che non si stia letteralmente sfregando sul viso il prepu appena tra virgolette raccolto sì il trattamento facciale è non posso leggere queste parole vabbè vi ho già detto ok vi ho già detto in cosa consiste queste cellule lavorano per incoraggiare le cellule della pelle a rinnovarsi rapidamente e rigenerarsi quindi vengono spesso utilizzate per schiarire sfogliare e curare la pelle ok qui vi parla anche di una scoperta di varie scoperte mamma mia qui si parla anche del fatto che una volta non molto tempo fa le persone utilizzavano il prepuzio di ragazzi giovani con mezzi che non sono chiari o comunque con mezzi che forse non si vuol dichiarare ragazzi quindi anche se non possiamo confermare da dove provenissero le cellule staminali del particolare viso di Sandra in quel momento possiamo supporre che provenissero da composti clonati prelevati decenni fa lo stravagante trattamento della pelle ricorda sicuramente la ricerca vampirica dell'elite di raccogliere le cellule dei giovani per rimanere giovani o ragazzi ecco qui un miliardario della tecnologia il 46enne Brian Johnson ammette di usare suo figlio come un ragazzo del sangue lui praticamente utilizza il sangue di suo figlio per iniettarsi per fare queste trasfusioni e rimanere giovane avete capito bene un padre che utilizza il proprio figlio per fare queste trasfusioni e rimanere giovane ma questa è tutta finzione sono leggende metropolitane non esiste cosa non esistono queste cose qui parla anche di Megan Fox e io vi ho parlato di Megan Fox che qualche anno fa ha rilasciato un'intervista in cui diceva sì io e il mio fidanzato molto spesso appunto beviamo il sangue l'uno dell'altro perché secondo loro appunto fare questo li mantiene giovani e infatti nel 2002 nel 2022 c'è anche il video sul mio canale di questo l'attrice di Hollywood Megan Fox ha rivelato che lei e il suo fidanzato rapper Machine Gang Kelly si consumano diciamo si prelevano sangue a vicenda e lei però ha dichiarato che appunto lo facevano per scopi rituali e qui vi cita tante altre persone che hanno comunque provato questi trattamenti ovviamente il trattamento favorito dall'elite lo sappiamo qual è rituale comunque energia vitale ma queste sono solo leggende metropolitane ora io dopo aver condiviso queste notizie con voi voglio sapere adesso che cosa ne pensate di questa tecnica che viene adottata da molte star di hollywood soprattutto donne in questo caso voi riuscite ad immaginare una cosa del genere non lo so c'è tra di voi qualcuna o qualcuno che vorrebbe provare una cosa del genere ovviamente noi sappiamo solo quello che ci dicono poi di come vengono estratte queste cose cosa avviene davvero dietro le quinte questo beh ragazzi inutile dirlo è inutile ripeterlo non lo sapremo mai fatemi sapere adesso voi cosa ne pensate io per il momento vi abbraccio vi mando un bacione fatemi sapere come state come stanno le vostre famiglie e noi ci vediamo alla prossima